Una tempesta così da quelle parti non si era mai vista. Chiameremo fulmine. Tutto nel povero paese dove era nato fulmine sembrava andare a poco a poco in frantù. La ragazza più bella del mondo! Spesso cambiano la vita. Cosa dovrebbe fare per tutta la vita? Non hai paura di quello che potrà accadere a fulmine? Farò lo sciopero della fame finché non uscirà la verità. Amen, amen. Un tango dal nome dolce e fascinoso, Romina. Se prima non lo erano, diventarono amici in fretta. L'orano il fiducente. Un altro passaggio, solidarietà, andare incontro al diverso, rispetto delle regole, tolleranza, uguaglianza, qualità di diritti e doveri. Romina sapeva già che sarebbe successo qualcosa di brutto. Che cosa c'è? Che cosa è successo? Una cosa brutta. La notizia della morte di fulmine arrivò in paese, portata dal vento. La partecipazione al voto fu elevatissima, vicino al 94%, la più alta d'Italia. La notizia della morte di fulmine arrivò in paese,